È partito il cantiere che renderà l'auditorium comunale Vincenzo Damassa Carara di Porcari un luogo più rispettoso dell'ambiente e confortevole. È questo l'obiettivo del progetto dell'amministrazione comunale che si è aggiudicato un finanziamento europeo nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e punta a rafforzare il ruolo strategico del teatro per le politiche culturali di tutta la Piana di Lucca. Il costo totale dell'intervento sono circa 425 mila euro e noi siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 250 mila euro grazie al quale noi faremo degli interventi per sostituire gli infissi faremo degli interventi di innovamento a livello di climatizzazione con l'installazione anche di sistemi di purificazione d'aria e naturalmente faremo degli interventi a livello termico con l'installazione di valvole termostatiche che limiteranno molto la dispersione di calore. Noi ci auguriamo che i lavori procedano in maniera spedita quindi di non avere interruzioni e di poter concludere questi lavori entro fine marzo per poi riaprire l'auditorium. Si inizia con la realizzazione di una platea in cemento posizionata vicino al cancello d'ingresso sulla quale insisterà la tettoia con pannelli fotovoltaici per alimentare l'intero auditorium. Un intervento che si inserisce in un contesto di valore storico come quello del complesso Cavanis e che ha ricevuto l'autorizzazione della sovrintendenza ai beni culturali per ragione di sicurezza per tutta la durata del cantiere interdetto l'accesso al campo da tennis e da basket rimarrà regolarmente consentito l'ingresso all'istituto tecnico Benedetti alla biblioteca, agli uffici pubblici e ai locali di proprietà della parrocchia.